L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Vorrei cari amici dedicare il pensiero di questa mattina A una virtù che è dimenticata ma è comunque di grande attualità Che è la virtù cardinale della temperanza Cioè come sapete ci sono le virtù teologali Quelle di origine soprannaturale Che sono la fede, la speranza e la carità Poi ci sono le virtù umane che comunque poi sono elevate Nell'ambito della vita cristiana E sono quelle virtù umane che già erano analizzate Dai grandi filosofi greci e latini Cioè la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza Allora volevo cari amici Dire due parole su questa virtù Che a mio parere è di grande attualità La parola temperanza Vuol dire temperare Quindi che è una virtù che deve moderare Alcune attività del nostro corpo Ora come sapete per il cristianesimo il corpo è materia Ma la materia viene da Dio Quindi in qualche modo il cristianesimo nel mondo Ha riabilitato la materia In un contesto di filosofie e anche di religioni Che spesso la disprezzavano Tuttora per esempio alcune filosofie come l'induismo Che comunque ha un'influenza su oltre un miliardo di persone in India Ma anche ovunque nel mondo Il corpo è ritenuto un carcere Un carcere dell'anima La medesima cosa pensavano un po' tutti gli indo-europei Compresi i greci Per cui anche per Platone il corpo era una prigione dell'anima Per cui la salvezza consiste nel liberarsi dal corpo E tuttora questa è la salvezza per esempio dell'induismo Cioè l'anima che si purifica E si svincola dal corpo Entra poi nell'unione con Dio E quindi si dissolve nell'unione con Dio Ma finché è nel corpo è in una prigionia Ora per il cristianesimo Dio ha creato E gli spiriti, cioè gli angeli Crea le anime umane Che è un puro spirito l'anima umana Ma li crea infondendo in un corpo Quindi anche la materia è creazione di Dio La materia non è cattiva La sessualità in sé non è cattiva Quindi questo è il cambiamento che ha portato il cristianesimo nel mondo Ora però cari amici La unione tra anima e corpo è stata messa in discussione Dopo la caduta originaria Cioè il dono della perfetta armonia Della mia corpo è stato compromesso Per cui noi a causa del peccato originale Facciamo fatica a dominare il nostro corpo E a renderlo in qualche modo Soggetto alla parte superiore dell'uomo Che è l'anima Vi ricordate il mito di Platone Della origa Che è il corpo L'uomo è come se fosse appunto Un' origa che ha Un' origa con una specie di carro particolare dei greci Da corsa Che ha due cavalli Questi due cavalli sarebbero Le componenti vegetative Psicologiche Dell'uomo Mentre l'uriga Quella che guida Sarebbe l'anima Spirituale Immortale Per Platone C'è questa difficoltà quindi Di dominare il corpo Allora per questo C'è questa virtù Che si chiama La virtù della temperanza Che vorrei riassumervi Con poche parole Non voglio dilungarvi all'infinito Su questo argomento Ma che però è importante oggi Perché la società dei consumi Per sua natura Dovendo mettere sul mercato Sempre nuove attrazioni E sempre più In qualche modo Attrattive Per quanto riguarda Il corpo umano E i suoi desideri E quindi Questa virtù della temperanza Della moderazione È stata travolta dal consumismo Però Gli effetti Sul nostro corpo Sono molto negativi E Ce l'accorgiamo Quando andiamo a fare Gli esami Diciamo Quelli Che ti dicono Che punto è Il colesterolo Eccetera Dunque cari amici Quello che volevo dirvi Noi dobbiamo recuperare Queste due virtù Che sono quelle Della sobrietà E della castità Dunque la virtù della sobrietà In che cosa consiste Cari amici Consiste nel moderare L'esigenza del mangiare Voi sapete che Noi mangiamo Mangiamo tanto Mangiamo Più di tre volte al giorno Mangiamo giorno e notte Cioè il mangiare Molte volte diventa Un'ossessione E poi facciamo Le diete Poi facciamo Il dietrofront E dopo la dieta Diventiamo più grassi Di prima Insomma Passiamo alle prese Con un corpo Che sembra ribelle In realtà Cari amici Invece andare a spendere I soldi Diciamo così Nei dietologi E in quelli che ci dicono Come fare Come non fare Per carità Non voglio rubare Il mestiere a nessuno Però So solo che I monaci per il deserto Campavano Fino oltre I cent'anni Con una sobrietà Assoluta Non aveva bisogno Di nessun dietologo Non erano mai ammalati Quindi Su questo punto Qui credo che Ci sia molti medici Che mi diano ragione L'abitudine La sobrietà Cari amici Però in un modo Direi Moderato Quella Che Ci fa evitare Per il corpo Tutto ciò che poi Ci fa male Cioè Significa Esercitare Quella Controllo Di se stessi Specialmente Su alcune cose Che fanno male Che sono il fumo Che sono l'alcol Che sono Le droghe Perché poi Qui Si innesca Cari amici Un percorso Di dipendenza Che può diventare Anche molto grave Per una persona E compromette La sua salute Compromette La sua professione A volte Compromette Anche la sua vita Sappiamo Quanti sono Quelli che Mogliono Per droga Che sono Prendono malattie Gravi Per l'alcol O per il fumo E l'alcol Per il fegato Il fumo Il fumo Il fumo Per i polmoni Voi mi direte Ma Padre Libio Non è una Lezione spirituale Che ci sta facendo Questa mattina Invece si Perché l'abitud La temperanza È una virtù Cardinale Fondamentale E per noi cristiani Io ho 82 anni Per il mercato Per il mercato Per carità Però La sobrietà È una virtù Che ci permette Di avere Un controllo Del corpo Tale Per cui poi In qualche modo Si presiede Anche alla buona salute Con la buona salute Cari amici Anche la mente Funziona meglio Anche l'anima Opera meglio Come dicevano Gli antichi Mens sana Incorpora sano Cioè Una mente Un'anima È sana Cioè È vigorosa Se opera Attraverso un corpo sano Il che cari amici Non vuol dire Che uno non si può ammalare E io parlo proprio Delle malattie Che andiamo a cercare Noi stessi Nell'incapacità Di nominare Noi stessi La Madonna Ha sviluppato Su questo argomento Del dominio del corpo Ha sviluppato Tutto il tema Del digiuno Che Ha una valenza Del digiuno Cioè Del dominio Dell'appetito Il digiuno Come dice Lo prospetta la Madonna A pane e acqua Non è un non mangiare È un dominio Dell'appetito Ora L'appetito È un dono di Dio Però Deve essere moderato E la Madonna Ci ha anche detto Se tu non riesci A fare il digiuno A pane e acqua Ma rinuncia a qualcosa O al caffè O al fumo O altre cose Lo sapete voi A che cosa Dovete rinunciare Insomma Per noi Il nostro corpo È strumento Dell'anima È strumento Operativo Per fare il bene Per compiere La propria missione Per carità Ci si può anche Ammalare Si può anche Avere Sgrazie Di vario genere Purtroppo Non mancano Anche le morti Nella vita quotidiana Però Cari amici La linea Da seguire È proprio questa Che il nostro corpo È strumento Dell'anima Il nostro corpo Farà parte Della gloria Dell'anima Nel momento Della risurrezione Della virtù Della temperanza Che è la castità Noi sappiamo Che la sessualità Fa parte Della persona umana Fa parte Della creazione Di Dio L'uomo e la donna Sono creati Immagini di Dio Il loro corpo È modellato Secondo il pensiero Di Dio Secondo Il patto D'amore Del matrimonio Orientato All'amore Alla sessualità E alla Genitorialità Alla maternità E alla paternità Quindi sappiamo Che questo È il disegno Di Dio Però La sessualità Ha un ordine Ha un ordine Morale Quindi Non è Uno strumento Di divertimento O Peggio ancora Di Di soprafazione Molte volte Di violenza La sessualità Ha un ordine Una finalità Che noi dobbiamo Seguire La castità È quella virtù Grazie alla quale Noi Noi Dominiamo Il nostro Diciamo Istito Cambiamolo così Sessuale Lo dominiamo Lo orientiamo Secondo i valori Lo finalizziamo E Ne facciamo Lo mettiamo Al servizio Dell'amore E della vita Di qui Cari amici Vorrei soprattutto Rivolgermi I giovani State attenti A non rovinarvi La vita Fin dall'inizio Con Diciamo così Lo sballo Nel bere Nel drogarsi E poi Lo sballo Nei vari Disordini Di carattere Sessuale Oltre al Male morale C'è anche Il male fisico Il male psicologico C'è soprattutto La riduzione Molto Sensibile Della nostra Libertà Cioè Del dominio Di disposto Di noi stessi Per cui Siamo Dominati Da istinti Razionali Da istinti Che molte volte Ci portano Solo al peccato Ma anche Ci portano Al male E anche Da punto di vista Diciamo così Dei rapporti Con gli altri Dunque Non dobbiamo Aver paura Di andare Controcorrente Fino a prova Contraria Siamo nel solco Della grande Tradizione Umanistica Che c'è In tutte le Religioni Sobrietà E castità Sono Diciamo Pagliuzze D'oro Che brillano In tante religioni Soprattutto In quelle orientali Ma anche Nel cristianesimo Sono state Travolte Dalla società Dei consumi Dove bisogna Sempre Ovviamente La società Dei consumi Su cosa È basata E sui bisogni Del corpo Cioè sul cibo E sul vestito In poche parole E su tutte le comodità Che ne provengono Noi dobbiamo fare Una selezione Dobbiamo essere Ordinati Dobbiamo essere Moderati E vi assicuro Che il portafoglio Ha tutto da guadagnarci Con queste virtù La salute Ha tutto da guadagnarci Anche la nostra anima Ha tutto da guadagnare Perché trova un corpo pronto A obbedire Agli impulsi Della vita spirituale L'almanacco Della fede Di padre Livio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti